Agricam, la cooperativa agricola che da oltre 45 anni opera nella fornitura dei carburanti, vendita e noleggio di trattori e attrezzatura, concessionaria ufficiale dei trattori New Holland per Brescia e provincia, sollevatori telescopici Merlo e carri miscelatori Silo King. Un ampio magazzino ricambi, officina meccanica, carrozzeria, oleodinamica, vendita e montaggio pneumatici. Carburanti agricoli, trazione, riscaldamento GPL e lubrificanti sono il punto di forza della cooperativa. Ti aspettiamo nell'ampio showroom a Montichiari in via Bornate 1 o su agricam.it. Agricam, avanti insieme!